Ciao ragazzi e bentornati con la notte horror che si tiene ogni sabato sera su twitch se state vedendo questo video su youtube andate in descrizione c'è il link al mio canale twitch cliccateci iscrivetevi stream ogni sera dalle 9 e ogni sabato c'è la notte horror ma cominciamo con il secondo capitolo di the council gioco fantastico che abbiamo giocato la scorsa settimana cominciato la scorsa settimana e ora riprendiamo dal secondo capitolo salvataggio 1 episodi il 2 dove è mia madre dove è mia madre quante volte te lo devo dire che non devi rischiare la vita per me la duchessa George Washington Napoleone Mortimer assured me that you are to take over the project on behalf of your mother Johan Christophe von Wollner minister of religious affairs and Jacques Perou french revolutionary tribunal judge you will find that lord Mortimer is not what one would call conventional monsieur de Richer I do apologize for being late I was obliged to clear up some urgent business ok questo che sarebbe lord Mortimer durante il primo capitolo ah una villa fantastica do you mind if I call you Louis please do thank you I wish to apologize wholeheartedly Louis I made you cross the seas and I wasn't even here to welcome you when I asked you to join us here it was of course in the hope that you would help us find your mother however there may be some new developments but I don't know if they are linked to your mother but I don't know if they are linked to your mother I don't know if they are linked to your mother you apparently bumped into miss Adams who wanted to speak to you we are told you turn her away and she went away on her own that's correct you know what she wanted to see you about by any chance you don't have trouble with the contest con me contessa hmm sembrava confusa purtroppo no not in the least pity the poor child was probably trying to find help I thought it could wait until tomorrow hmm apparently not Oh mio Dio Oh Mmm Ok Washington left the party after midnight, I believe They were tired and went up to bed Eh, e ora... ora sospettano la duchessa che era con noi, Bella Thor Right I'll get up there immediately Thank you, Louis Now once you've finished, come back and let me know your findings I'll be waiting Ok As Louis, you've got permission to search through the guests' rooms They've all been notified and they agree Ok, posso controllare le stanze Ora però abbiamo il problema che abbiamo il rimorso di coscienza Che per andare a fare zucchi di zucchi di con la duchessa de Bois Eh, quella là è morta Assolutamente no, vi stavo un pochettino clipbaitando Non provo nessun rimorso che ho fatto senso con la duchessa de Bois Sono pronta a sacrificare la vita di quella per zucchi di zucchi con la duchessa Allora, indaga sulla morte di Adams Parliamo qua Al nostro caro Eminenza Questa è un pochettino 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 Vediamo quale sono le lettere qua Mmm No Vediamo Vediamo con la A Questa è un pochettino Questa è un pochettino Può essere Può essere possibile Lo scopriremo dopo Abbiamo qualcos'altro Vediamoci un'altra cosa qua Ho provato cose Qua abbiamo un libro Che possiamo Il Purgatorio di Di Dante Niente qua C'è qualcosa qua Prendiamocela Mamma mia Qua quante cose ci sono ragazzi Cioè sta villa è Gigantesca Noi entriamo qua Gli rubiamo le cose davanti Proprio Benissimo I servi questi Tutti sempre con la maschera Ha dei piccoli ritratti Lui Va da spese Non ti preoccupare Che ti rubo tutte le cose davanti Che figata Sto gigante Questo è bello Ok Ok Ragazzi possiamo andare E andiamo ad indagare Andiamo ad indagare Oh 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 No non mi fa scendere da qua Com'è che non mi fa scendere? Ok Ok Devo prendere Lico Ripistina due punti impegno Ne ho zero Uno Cura le alterazioni negative Quattro Il tre era Visualizza le immunità Le vulnerabilità Quattro Il prossimo uso dell'abilità Al concorso va bene Un posto proprio Un posto proprio Da pezzenti Non si vergogna questo L'avere sta casa Cioè ci fa entrare pure la gente Io un po' mi vergognerei A ricevere persone qua Possiamo andare nelle stanze di tutti Il cibo che si butta Poi tra l'altro farlo arrivare su st'isola Deve essere ancora più costoso Ok immaginatevi trasportare all'epoca Questa di chi è la stanza? Monsieur Jacques Perou Oh quello che sospettiamo tanto Quello con il Ecco qua Non bussa niente Non bussa niente Ciao Ciao Mi ha chiesto Sì 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 Ti amo ora e per sempre Va bene Questo l'ha scritta lui Ah è coccoloso E dolce Dentro anche se sembra Burbero fuori Non ce lo vedo Qua le finestre li possono aprire Questa No Qua c'è niente da perquisire Niente Non c'è la possibilità C'è un'arma del delitto lasciata così Su due piedi No Abbiamo altro documento Allora Che c'è qua Vediamo se c'è qualche libro sospetto Ok Non deve aver scoperto Psicologia Psicologia Sì Abbiamo sbloccato un talento Qua ha bevuto lui Si è un po' ubriacato Non mi sembra ci sia altro Andiamo a parlare con lui Vediamo se ora c'è qualche altro spunto di conversazione Qua niente no? Vai via Che stava bruciando qua sotto Non ce lo fa vedere Perché non abbiamo l'osservazione alta Guardate là Guardate là Guardate là C'è un indizio Vediamo se riusciamo a parlare All right Have you finished? Not quite I'd like you to answer a few questions I'd like to talk about the letter You're writing What woman is it addressed to? Who says it's a woman? I'm not saying anymore There's no point you insisting All right Have you finished? Not quite I'd like you to answer a few questions Ok Difficoltà 4 questa di qua Mmm Let's get right to it Spendiamo questi due Adams murderer That is for you to prove If I'm not mistaken, boy You weren't expecting me To do all the legwork for you Were you? Lazy man Ok Two days ago I surprised you Having a go at Miss Adams What happened? Did you want to give her another beating? She wouldn't let you Push her around again, huh? Shut up, you little shit You have no idea what happened And here you are Carping away You think you're investigating? Gator of the year Have you taken a look at yourself Dorishe? Didn't you get enough beating Her black and blue last time? I did not Go on Keep going Finish what you came to do Then get out of my room Yeah, so he can't on Abbiamo speso un sacco di punti per niente Probabilmente Questo non confesso E forse non è stato neanche lui Fabio Non ti auguro buon compleanno In anticipo Perché porta sfiga Però mi puoi dire Quanti anni compierai Vediamo Questa è la stanza di Monsieur Di Napoleone Che doveva essere infatuato Con lei Dicono Sempre lì Non bussiamo Solo la stanza di Napoleone Principe di Machiavelli Allora abbiamo scoperto Un'immunità Vediamo un istante Di controllare qua Quali sono le immunità Di Personaggio Abbiamo Dei Cinque punti di livello O Siamo a cinque Vediamo Ma non possiamo dare niente Diario Adams Mortimer Dove Raggi buona parte Politica E l'immunità Etichetta E la vulnerabilità Va bene Etichetta Prima di parlare Guardiamo un po' M'è sotto Pensieroso Cerca Un'immunità Un'immunità Dicono che se piacere questo Dà un'immunità Dà un'immunità Ma è chiuso Un'immunità 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 che abbiamo trovato frammento di ambra appena trovato un frammento di ambra raccogliendo 4 il tuo numero massimo di punti impegno aumenta di un'unità buono 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 nerone manca una pistola dobbiamo andare a vedere però com'è morta questa mio amico napoleon come avessi apprezzato vorrei chiederti che ci chiedervi a noi in januari su mia isla per partecipare in la meeting di un'unità di società organizzata per la occasione potremo continuare la discussione sui progetti per una nuova ordine per la france ho una proposta per te riguarda il tuo wish di mettere un forte leader in fronte di france credo che ci sia discreet ok questa è la lettera che Mortimer ha scritto a Napoleone però ragazzi forse sto sbagliando tutto io sapete perché sto sbagliando tutto ragazzi perché non ho guardato com'è morta questa io devo andare nella stanza di questa leggiamo questa lettera ah qua abbiamo la spada my dearest son my dear son I'm writing to implore you to act quickly situation is rapidly worsening here Powi-Li continues to steer our motherland Corsica toward open warfare between France and England his men are everywhere we are obliged to go into hiding Ok, e qua c'è il cappellino Ok, andiamo qua Su Adam, Elisabeth Adams Andiamo prima nella sua stanza, poi partiamo con Bonaparte Inutile Perdere tempo Allora, Bonaparte è qua la stanza Vediamo dove sta Elisabeth Adams Emily, la duchessa La gioia nostra ragazzi Emily Duke, no Dove caspita sta Elisabeth Adams Deris Shea, ok Sono in Enzo, il Cardinale Piaggi Niente, qua non c'è nessuno proprio Washington Qua abbiamo cosa? Ecco, ok, questa è la stanza di Elisabeth Adams Vediamo un po' cosa è successo Prima di Indagare Cerciamo un'idea Inutile Cercare un'arma del delitto se non sia C'è un pugnale ad esempio A terra Pugnalata Cinque volte Cinque volte, sei volte Mi sembra Ok, ok, ok Qua c'è il sei Mamma mia Che cavolo Facciamo prima Prima mi fare domani P.S. Non volerne a tua madre Non è ancora pronta Non giudicarla Sono certo che un giorno Riuscirai ad accedere le spalle Questo avevamo già detto Perché credevano fosse Posseduta dal demonio C'è stata una bella colluttazione Ok, 354 Quindi la duchessa Non è stata Perché stava con Con lui A quell'ora Un pentagramma Un pentagramma Rituale occulto Non si sa Un pentagramma Un pentagramma Written in Elizabeth's handwriting È scritto in Un mix di numeri Lenguaggi Non è molto facile da lavorare Non è molto facile Non è molto facile È un mixaggio Medievale latino e anglo normano È difficile di fare sensazione di questo scritto Ok Ok Abbiamo finito i punti abilità ragazzi In 1991 My dear Elizabeth Your last letter gave me much cause for concern Your words were so cold As if emotions no longer matter to you Father maintains that the secondary effects of your treatment Still trouble you But that they will soon subside Should I believe him? I cling to the belief that we shall soon see each other again At long last Write soon Your loving sister Abigail Ok P.S. Don't forget to tell me what present you want August 24th 1792 Elizabeth I am driven to despair Doubt there is any point in writing to you I'm not even sure you'll receive my letters Father controls my correspondence more and more I am certain he filters our exchanges Thankfully One of the chambermaids is able to help me get my letters to you But They still remain unanswered I Often think about you And Pray every day To be able to hold you tight We have so much time to make up I beg you Answer me Please Your loving sister Abigail P.S. That horrible woman came again yesterday She spent a long time speaking with my father I didn't understand everything because they spoke in French But I'm sure they were talking about you Ok Ragazzi Questa L'avevamo già vista Cosa c'è qua La pistola Che è la pistola di Napoleone questa Che manca Visto che Visitare la Hm Osserva l'impugnatura tierra There's a few dried traces of blood on the grip Difficult to know for sure how they got there Hm Quindi c'è del sangue Che si è asciugato sull'impugnatura Un francese Ah i liberatori di Francia Visto Non è stata usata Forse è stata usata come corpo contundente Però capite che ora si può chiedere qualcosa A Napoleone Non hai punti per vederla Sua madre Il vestito Ok Viales di laudanum Laudanum Quindi c'è sempre una mano femminile O una mano comunque piccolina Con bisogno di punti abilità Esaminiamo il corpo Attra Esamina il braccio Ma cos'è scritto in russo? Si tagliava Si va Greco Ebbene grossiato il greco Mi sembrava russo da lontano Tra l'uscita è est Niente Non te lo c'è Canti sacri Ok Ok Ho fatto un'operazione al cranio o qualcosa del genere Esamina la bocca Laudano Conosco quell'odore Vaffanculo Esamina le gambe Scende dalle cosce pure il sangue Violenza sessuale Devo trovare un pochettino di Di cosa per ricaricarmi i punti a sinistra In massa a sinistra Usa la chiave Abbiamo la chiave Allora Eh non abbiamo le cose per Prendi gli appunti C'è della Sul muro C'è una bottiglia Annusa Vediamo se hanno messo qualcosa nel vino Abbiamo un effetto negativo Quindi pugnalata Più volte Qua sopra non c'è niente Parliamo con questo servo Che ha questo lavoro bellissimo E stare vicino a un cadavere tutto il giorno Sull'attenti Ok si Ok questo controlla Voglio vedere un istante La finestra si apre No Non ci fa andare la finestra Sul tetto c'è pure un pentacolo Guardate qua È tipo di protezione Parliamo con lui Anzi Vediamo che non c'è niente qua No Da raccogliere Non c'è niente qua Non c'è niente qua No Non c'è niente Lord Mortimer Must have informed you Of the necessity for everyone to remain in their rooms Until further notice Certainly, but I'm a guest Not a prisoner I was looking for a servant Since we don't all Unfortunately have one at our disposal Yeah, right I shall leave you now, sir I will return to my room Ok Questo è un po' sospetto Ora possiamo continuare L'interrogatorio Anche se non abbiamo cose per i punti Il che mi dà un molto fastidio Perché non possiamo condurre le cose come vorremmo Non so è scendere giù e vedere No, continuiamo con le stanze Qua c'è niente Oh, oh Allora, questo è Non c'è niente qua C'è una scale per salire Allora, cominciamo da Ok Cominciamo l'ispezione Ok, uno, ripristiniamo qua Due punti, meno male Non si può uscire Un libro Il dolore del giovane Werther Ok Scusatemi un istante, vediamo qua chi era Bulder di faccia Von Bulder Questo qua, quindi quello sospettissimo Ok Abbiamo un sospetto Ce n'è uno segnato in rosso Con zinco Cerca Minchia Minchia Zinco, vediamo Vediamo se è zinc Si Che c'è dentro Appunti misteriosi Talenti, tartati Diario Inventario 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 di Mortimer Appunti di Derrishet Non ci dice Non ci dice Niente qua Ok Comunque Comunque l'abbiamo aperto L'alchemist è un young man Mh, è lì Che ci aspetta Abbiamo solo un punto per ora Oh oh Ambra Abbiamo due di Ambra Ne abbiamo anzi tre di Ambra Mi sa L'alchemist è un old man Questo è il Baule Le valigie guardate come facevano un tempo Cioè assurde Con i cassetti Con le cose da portare Dovano essere una cosa tremenda Pesanterrime Guardate quante ne ha C'è niente di qua di lato Ok What can I do for you Derrishet Monsieur Lord Mortimer Appointed me To investigate The tragedy That befell us Last night Oh Yes It's horrible Yes How can I help Monsieur Hmm Where were you Last night In my room I read a few Ancient manuscripts Before going to bed Un istante, vediamo Mortimer Immunità, persuasione Ok, e la vulnerabilità Non l'abbiamo Non l'abbiamo Non l'abbiamo Non l'abbiamo Non l'abbiamo Psicologia niente Non ho più punti Possiamo stare Non l'abbiamo Ok Ok Non l'abbiamo Non l'abbiamo Non l'abbiamo Non l'abbiamo Non l'abbiamo Ok Non l'abbiamo E che era finita Quanti eroi Quindi abbiamo fatto questa stanza Andiamo Andiamoci a rifare tutte le altre stanze Ora Stiamo indagando Parecchio Un'abbiamo Un'abbiamo Questo è Già Già Un'abbiamo 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 Comun'abbiamo Comunque Comunque Un'abbiamo 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 Ok Con chi Ok Ok Ma Grazie Le Sì, Faye. Una moglie è uscita fuori, ecco, la mascherina. Ok, secondo me non è stato lui. Gliela avranno rubata forse la pistola, ma poi non l'hanno ammazzata anche con la pistola. Ok, sincero, ragazzi. Lui dice che è sincero. Comunque, ora vediamo, chiediamogli la pistola, vediamo come reagisce. Sì. Ok, quindi non è la pistola di buona parte. Dice almeno averne solo una, però... Niente, Napoleone non mi sembra... Un assassino. Almeno, non di quel tipo. Continuiamo. La duchessa, andiamo, andiamo! Luce dei miei occhi. Ok, abbiamo trovato l'Ambra. Buono, abbiamo aggiunto un altro puntino, abbiamo trovato i quattro. Dice. 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 Adesso ho una biblioteca in tasca. Un istante, duquestra, devi attendere, gioia mia. from William Pitt the Younger addressed to Emily. He's the present prime minister of the United Kingdom. Emily has indeed some powerful backers. Madame, thank you for consoling the Queen. The King's situation is worsening, but I wager her recover from this present fit. Next time you speak with Her Majesty the Queen, would you please be so kind as to ask her to look into my petition to raise taxes with the King? I will personally see to it that our nation will recover from this impasse. But King George's mental situation is slowing down our decision-taking. Thank you in advance for all your help. William Pitt, prime minister of the United Kingdom of Great Britain. Okay. Oh, I want to read it. Ah, he's talking, he's reading it in English. Allora. Oh, my God. Come si fa? Mamma mia. Santo Padre. I know Padre is Padre, no? Santo Padre is the Pope. The Father of Santo. Non è il Padre di Santo, però, vabbè. So, and was the Papa. Sì, Papa. Santo Padre is the Pope. The Holy Father. Non è Papa. Mamma mia. Vi aiuteremo a finanziare il reclutamento di reggimenti di emigranti monarchici affinché combattano contro la Francia. Il vostro amico. Amico la Vedenza. Sominenza. Giuseppe Piaggi. Frekis, grazie mille per il resub. Sette mesi che sbaglia a cliccare. Grazie di cuore. Leggi, però, but closer to the microphone. Ok. Il vostro amico. Sua eminenza. Eminenza, non è eminenza. Giuseppe Piaggi. Peggi. Sì, Peggi 13. Piaggi. 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 Can you put this anymore? Yeah, yeah, yeah. Ah, everyone. No, it's just for some people. Non si fa la pepe. Two coils circolano il lock. Apri niente, allontanati. Queen Charlotte. All the royal family of England is there, from what I can tell. A letter from William Pitt, the elder, addressed to Emily. He was the English prime minister. This letter dates from 15 years ago now. Madam, I shall never thank you enough for all your care and attention. I shall be indebted to you until my last breath. If you have any request of me, you only need ask. With regards to my son William, I shall never thank you enough for looking after him. You know the latter's preferences, and you will understand he needs you desperately. For that, and as agreed with Queen Charlotte, our friend Duke Hillsborough, will carry out his task and meet with you within six months. From then on, you'll be free from once. You're sincerely. William Pitt. Count with Chatham. Okay. Okay. Non cerco. Non abbiamo un punto, mio Dio. Vogliamo cercare? Vediamo. Usiamo questo. Un po' inutile. Stiamo sprecando un sacco di punti di conversazione qua. C'è niente. Ora arrivo, duquesa. Non si preoccupi. Gioia mia, mo. Mamma mia. Mamma mia, la duquesa. Momento. Che bella, di profilo, proprio bella. Andiamo. Che bella, di profilo, proprio bella. Andiamo. Che bel vestito che ha. Mamma mia, quelle boe. Come segnalano bene. Come segnalano bene. Come segnalano bene. 9 volte, non è vero che ha avuto davvero molto 9 volte? Cosa monstera è capabile di una cosa così brutta? Hai saputo cosa succede? In realtà, Lord Mortimer ha chiesto a me per vedere questo caso, Emily Sì? Sei il Snoop di Lord Mortimer? Sto facendo per Elisabetta, non per farlo a Mortimer Buono per te, è vero anche. Hai trovato qualcosa? Falla parlare la notte dell'omicidio! Sì! Dai, che minchia! Abbiamo fatto zuccheri zuccheri! Dopo il tuo arrivo, hai notato qualcosa di strano su Elisabetta? Tutto ciò che succede su questo potevo figlio era strano. Hai visto quello per te stesso. Sì, sei vero. Sto cercando di fare leggi per cercare di ridurre il numero di sospetti. Beh, direi che, in additione a noi stessi, potresti anche cercare il Presidente Washington. Sono venuto a vedere lui durante la notte. Ho avuto un'azienda con lui, e posso confermare che non lasciava la sala tutta la notte. Hmm. Beh, questo rende Washington un alibi. Ah. 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 Non mi prendo molto interesse in lei. Mi sento un po' culpito, ma non ho mai parlato con lei. Si sembrava presa con i problemi, e quando non era invitata a la conferenza, non mi chiede a lei. Ho trovato una pezzi di vestito in Miss Adams' room. Grazie a te. Where's it from? Questo è quello che ho cercato di trovare. La colora non è vero a nessuna di Elizabeth, ma potrei non aver trovato tutte le tue. Buon Lorde, Luì. Hai capito di questo? Se questa pece di tue non è da Elizabeth, allora... Non ho nessuna tue 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 tue, Luì. Non è la mia sorella, se che abbiamo portato la stessa. Si, è proprio quello che volevo cercare con te. Mi sono davvero scusate, Luì. Grazie. Sei bene? Sì, sicuramente c'è una buona ragazza per la tua madre all'interno. Grazie, Emily. Ok. Abbiamo trovato la straccia. Cosa è? Una straccia, abbastanza piccola. Hai trovato la sua proprietà? Non ancora, stiamo cercando come si succede. Dice, da che una straccia ha penetrato il corpo molte volte, la straccia di traccia di traccia di traccia. Hai pensi che è una scuola? La scuola era una scuola molto piccola, Emily. Probabilmente quella di una madre. Hai capito di quello che significa? Ci sono solo tre di noi sulla straccia. Adesso che non la mia sorella, non la mia ragazza, non la mia ragazza, non la mia ragazza, non la mia ragazza. Questo significa... Lo so, Emily. Lo so. Sua madre. Secondo me il killer non è nostra madre o questa la duchessa e questa sua sorella gemella. è Peppe detto mani d'angelo perché aveva le mani particolarmente piccole. Io lo sospetto. Allora, parlate alla corrispondenza con Piaggi. Si. Si. No. No, perché stiamo un po' con Emily. Ci vediamo, Louis. Non così presto. Non così presto. Non così presto. Mamma mia. Quanta roba. Da qua non si può uscire. Ok. Si continua. Il duca. Ma non si può entrare? Perché non si può entrare? Niente. Questo invece non si è... Ok. Il cardinale non si può entrare. Mi sa che abbiamo finito le stanze. Abbiamo visto qualcosa? No. Allora, andiamo a George Washington. Vediamo che ci c'è Washington. Messo là. Noi ci facciamo i fatti suoi. Abbiamo trovato delle cose. Un'amica di Vermont. Un'elixir. Un'elixir. Ok. Non c'è niente. Non c'è niente. Un bel po' di lettere. Vediamo se c'è qualcos'altro qua. Molto ordinato Washington. Va a far reale dai due punti dai. Ah si. Un po' fa netto qua. Non si... Non si può uscire. L'altro ha fatto pure le stanze personalizzate agli ospiti. Assurdo. Ok. Leggiamoci qua la letterozza. Prima. Perchè abbiamo una cosa negativa. Perchè abbiamo una cosa negativa. con Washington sui reopini di internazioni tra gli Stati Uniti e l'Englande. Perché una raffinazione si è venuta a fare la Francia si affremmo. Ok. Ma a che prenoti George. Voglio invito a te conoscere come per il mio posto. Ho un progetto per te mostrare. È la volta che gli Stati Uniti ha giocato una più importante role sul mondo. Adesso la tua prenotazione di giocando con il fogo. I know your new country is very young But rest assured that I would do nothing to jeopardize what we have built together I look forward to seeing you soon Your friend William Bellare Wind, ben arrivato Abbiamo letto pure questo E ora andiamo a parlare con Washington Greetings, Lee Mr. President You can guess why I'm here Of course Lord Mortimer has sent me to ask you a few questions about last night It's... How am I going to tell Elizabeth's father that she's dead? I know, Mr. President I shall endeavor to find out the truth about this tragedy I must ask you to help me, though, please Find the degenerate pig who did this, Lee Ok, vediamo qua cosa sappiamo Do you know that Elizabeth took Laudanum? Yes She came to ask me for something She had finished her reserve, I believe Do you take it regularly, Mr. President? Unfortunately, I do, Louis I still suffer from a terrible toothache And it's not likely to get any better It's just for that, then Old age, my young friend I don't wish it upon you But you'll soon see At my age It's rare to have no problems in that domain And... Do you take a lot? A moderate amount, Louis Only the dosage indicated on the prescription of my doctor Ok Ok Are you alright, Mr. President? Are you feeling alright? Oh, don't worry It's this rotten toothache What do you expect? I'm a spring chicken now Ok Do you know if she had any enemies, Mr. President? Not that I know of I heard about her altercation wound, Mr. Perry But that case was closed, if I'm not mistaken But if in doubt I wouldn't leave any door unopened And I'd go and question your fellow countrymen Don't worry Countryman or not I'm not letting anybody slip through the cracks Do you know why she came to the island? To get help, if I'm not mistaken Isn't that right? Indeed Sir Gregory suggested to her father That he introduce her to Lord Mortimer To see if he could help her Yes Lord Mortimer has a talent for healing, apparently I'm not surprised Sir Gregory advised her to come Agreed Ok Do you know if she had any enemies, Mr. President? Not that I know of I heard about her altercation wound, Mr. Perry But that case was closed, if I'm not mistaken But if in doubt I wouldn't leave any door unopened And I'd go and question your fellow countrymen Don't worry Countryman or not I'm not letting anybody slip through the cracks Ok Mr. President We found a footprint at the scene of the crime Not a dress shoe, I hope That's all I wear No, rest assured It looks like the print of a big ankle boot A large size, I'd say Perfect That should help you, Louis It's a clue Hmm Ok Ok Che altre stanze ci sono? Rientriamo qua Questa ora è lao Questa è lato Washington Quindi Ok Faccio BB Torno subito ragazzi E continuiamo l'investigazione Questa è l'investigazione Grazie a tutti. Ok, rieccomi. Dobbiamo trovare dei punti abilità qua ragazzi perché... Allora, scendiamo al piano di sotto a questo punto perché abbiamo fatto tutte le stanze. Siamo bloccati. Vediamo se possiamo andare di qua. Possiamo salire sopra. E sta scrivendo. Ok, diamo i risultati. Accordiamo quando io ho un colpevole, arrivederci, ho degli indizi, ma preferisco non accusare. Cosara. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Si è suicidata. Mia madre. Ragazzi è... Mia madre. No. Secondo voi si è suicidata? No, perché era messa alzata al muro. Non può essere mia madre. Sera. Sera? Why her? The print left on the knife near the body was left by a slender hand, without a doubt the hand of a woman. And there aren't many female guests. I see. Anything else, though? I found a piece of fabric that appears to have belonged to her, and proves she was present at the scene of the crime. Interesting. Anything else? Elizabeth thought that mother was going to kill her. Difficult to believe in a simple coincidence in light of recent events. Indeed, it's uncanny. Anything else? I found out that there was a long history between Elizabeth and my mother. She had been her personal doctor and had tortured her throughout her childhood. Ah. And so, she could have tried to silence Elizabeth so the truth wouldn't get out and damage her reputation. That's possible. Have you anything else? I think that there is more than enough evidence here. Indeed. It's very worrying. Everything seems to indicate that your mother is responsible for Elizabeth's murder. Given the distinguished guests and the political issues involved at the conference, I trust you'll leave me to conclude the case in my own way. Now that we've examined the question from all sides, maybe you could explain to me why you asked me here, my lord. Right. Right. It's time we spoke about your mother, Louie. She isn't missing, you know. What? What do you mean? My mother has left traces in every nook and cranny of your island, my lord. She's definitely here. Now, what worries me most is why she doesn't show herself. That doesn't make me feel any better, Louie. What was the official reason why my mother came to your island? I knew about your mother's activities and yours in the golden order. I thought we had everything to gain by working together. You mean the cannon deal with Monsieur Bonaparte? Among others, yes. How did you hear about that? Monsieur Bonaparte came to speak to me about it yesterday, during lunch. I see. So impetuous. He was supposed to let me speak to you about it first. Our friend, Napoleon, desperately needed financial backing to properly equip his army. I took it upon myself to back him because I have a firm conviction that he can go far. We shall see. However, there's one thing that surprises me. Isn't Bonaparte a bit young to deserve so much attention? Well, you come straight to the point. I like that. Indeed, if you knew just how much you remind me of him, trust me, I'll wage that Monsieur Napoleon will soon prove himself. I'm working on it, at least. Okay. Once this deal was closed, I had big plans for Sarah. Such as what? You see, I've invited several influential figures on my island to present them with a project at the conference. It will be presented later today. I thought that the Golden Order had a role to play. And I still think so. I was hoping Sarah would be able to join us. Hmm. I see. Indeed, if by chance your mother decided not to return to us before the conference, would you do me the great honor of attending? If only to follow the deliberations while waiting for her to duly take her seat. Why not? We shall see you. Ah. Thank you so much. In this way, you'll be able to keep your mother informed of what he said. Um, there's something else I'd like to briefly go over. Earlier, you asked me the official reason for your mother's presence here. Is there an off-the-record reason why your mother came here? If only my mother had trusted me, but she remained very mysterious. I'd have been delighted to answer your question. Is this usual for her? As head of the order, secrets are her bread and butter, as you can imagine. That said, it's the first time she hasn't let me in on the reason for her trip. And it intrigues me, to tell you the truth. Well, I'm sure it's... Anche neanche l'ha detto al figlio, perchè andata là. There's something I still don't get. In your opinion, why would your mother remain in hiding over several weeks? Maybe she found something out. What do you mean? My mother has a gift for investigating. If she had picked up a lead, Nothing would have stopped her. The only thing I can tell you is that Sarah had indeed changed. At the beginning of her stay here, We enjoyed spending time together, Solving the world's problems. Hmm... Hmm... You seem to know my mother very well, my lord. What did you talk about together? Oh, as soon as we had a little free time, We like to share points of view about practically any subject. We would find ourselves embarked on... And we're not going to go to the borderline. We're going to go from... From Mr. Blanchard's flight in a hot air balloon, To the Treaty of Jersey, Or the adoption of the metric system in France last year, Or even Mr. Eli Whitney's invention in the United States. It's the armistice between the Russians and the Turks. Russia's come out of it having officially won Crimea, Which gives it direct access to the Black Sea. And, at the same time, the Mediterranean Sea. I'm worried about the decisions Saryana Catherine might decide to take. She's a woman who managed to get rid of her husband, To accede to the upper reaches of power. Gaining access to the Mediterranean Sea remains her main objective. When she still had that dear Potemkin as her lover, I could always find out about her intentions, But those days are over. You're speaking of Grigori Alexandrovich Potemkin? The very man. The little devil behind the mother of all Russians. Since his death, I know absolutely nothing of what the Tsarina is up to. Oh, really? Ah. Yes. I didn't mean to shock you. Please forgive me. Let's just say that, in my position, It is often advantageous to know about the habits and customs of world leaders. I'm surprised she didn't get you started on the Crusades. It was her favorite subject. Are you joking? Sarah and I spent entire days together reliving them. It so happens that the Crusades are also my subject of predilection, especially the third. My ancestor distinguished himself brilliantly during the siege of Saint Jean d'Ancre. It's unfortunate, my lord. The Crusades are not my chosen field. Well, it doesn't matter. You have plenty of time to learn. Your mother is a very well-read woman. You're quite lucky to have her as a model, Louis. Yes, I know. But I'm still very worried. I must admit, there are worse things to worry about now, Louis. What do you mean? Since she disappeared, your mother has been seen once. Her behavior on the evening of your arrival greatly surprised Gregory and myself. She resurfaced to attack Emma, Emily Hillsborough's twin sister. And she shot her with a pistol. Then, before Gregory could intervene, she ran off and disappeared again. I beg your pardon? Hang on. That means my vision on the wharf, it was actually happening inside the manor. Mother shot Emily's sister? The very person she came looking for? Why would she do that? Excuse me, but between that and the childhood of Lady Adams, it's all a bit much for me to cope with. I need to piece it all together again to see things more clearly. You said that you spent a lot of time talking together at the beginning. What happened for that to change? I'm afraid I haven't much to tell you. The more the days went by, the more she withdrew into herself. She never gave me an explanation until the day came when she purely and simply disappeared. Where did she go when she wanted to be alone? She would shut herself away in a room we use as a box room upstairs. Would you allow me to go there? Naturally, Louis. I'll send you a servant to open it. Thank you. That's all I can tell you about the disappearance of your mother, Louis. I would like to have been more helpful. I shall stay on our trail and follow up any leads. Thank you. We will meet later on to welcome our last guest. In the meantime, I shall get someone to open the box room upstairs for you. Thank you. Okay. Hmm. The room is just office of Mortimer's study. Here. The place� stand... There we go. Look at the door. There we go. There we go. Where do you leave the stairs? Okay. Bene, la stanza della torre Vediamo se sono queste le scale C'è una scala 1 No, la stanza della torre sicuramente non sono queste No, qua non si può andare Dobbiamo trovare la stanza della torre Qua non si può andare Quindi è più facile, non possiamo Sbagliarci, ci sarà un servo da qualche parte Si spera No, da dove cazzo? Ma qua non si può andare Non è che sarà una di queste porte Ok, vediamo E' questa Ah, vabbè, la stanza Cerca indizi Nell'uomo con la spada Fidarsi all'uomo con la spada Subito Prendiamocelo Riprocarichiamo due punti Paradiso di Dante Allora, dice Dobbiamo trovare un modo più sicuro Di comunicare qualcuno C'è addosso Confidate nella fede Che ripongo sull'uomo Con la spada Va bene Prendi il disco Qua C'è un Caravaggio Così Caravaggio Attende il magnifico Comando di blanco E il giro di color Paolo Fia un ordeo Le corte delle sue illusioni Si riuscita E riceve la luce Da il suo saviore Ok Questi libri C'è niente No Vediamo quest'altra stanza Chiusa Apri Ok Il disco era magnetico Benissimo Andiamo avanti Nel mistero L'uomo con la spada Eccolo qua L'uomo con la spada Andiamo qua Con l'uomo con l'uomo con la spada Undici Undici Allora dobbiamo trovare il modo più sicuro E confidate Nella fede Che ripongono con la spada Quindi undici Samina quadra Non possiamo fare niente Benissimo Numero undici Ragazzi Vedo qualcosa Dove inserire l'undici Dove c'è scritto l'undici This is how Paul spoke To his pilgrims from Rome Si on skippa Allora dobbiamo Allora dobbiamo Allora dobbiamo Allora dobbiamo Allora dobbiamo Voi via Allora dobbiamo Voi portratti Ofostle Allora Signata Guido Rinni Looks like Someone touched This commode Recently There are Fingerprints On the sheets And in the dust Ok St. John Painted by Guido Rinni Mi troverò forse L'undicesima Posto Non ho idea Ok Evangeli E gli atei E gli apostoli Lettera di Paolo Una seconda Volume Of the Kutenberg Bible Un istante Come si chiamava Questo San Paolo San Paolo Allora Uno Due Lettera Dei Romani Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto No Quindi Non c'è Una cosa Ok Undici Sottolineato Due Volte I say then Have they stumbled That they should fall God forbid But rather through their fall Salvation is coming to the Gentiles For to provoke them To jealousy Wait A note from mothers Carefully folded between the pages here Che è più giovane Gli apostoli Boh Allora Now therefore There is utterly a fault among you Because ye go to law with one another Why do ye not rather suffer injustice Why do ye not rather suffer yourselves to be defrauded Ah Look Here's a message It is of paramount importance that no one finds it Watch out for the Prussian He's on the trail Let's meet up I'll leave it to you to organize the rendezvous Not today I'm unable to do it In the meantime I'll follow the first group to Mark Who will reveal the answer to them Col 13 anche But That Which Beareth Thorns And briars Is rejected And Is nigh Unto cursing Whose end Is to be burned Here's a message Ok There are some complications Indeed the Prussian is insistent What's happening at your end Do you need help If tonight is not possible Let's see tomorrow evening In the south room Where we reviewed the situation When Paul understood A wilderness Into her place Where she is nourished for a time And times And a half a time From the face of the serpent Hey A new note A fan cooler In the corner of this page The writing It's not my mother's S I found the book in your effects I've concealed it where no one can get their hands on it I can assure you Awaiting your instructions I will hear your reply Like he who hears the angel Hears the angel What does that mean Oh It's probably the place Where she was expecting To get the location Of the next note And he became very hungry And would have he Ok 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 Trotano no A messaggio da madre in replye a E. We must leave urgently. But first I absolutely must go beyond the nightmare. Watch out for Volner. He figured out I was avoiding him. A lay suspicion. See you tomorrow evening. Stand ready. For now, let's cease all communication until we meet. Take care of yourself. I suppose this must be the last message. What happened afterward? If it's what I suspect, I fear the worst. Hmm, forse siamo usciti a risolvere. I must go beyond the nightmare. I must go beyond the nightmare. What does she mean by that? I'm guessing it's a metaphor. I need to figure out what this means. Mortimer's getting his guests together. I should join them so that I don't look suspicious. Okay, dietro l'incubo dobbiamo andare, ragazzi. Biglietto della Bibbia. Hmm. Andiamo. Mortimer. Sì. Abbiamo finito l'episodio 2. Ho convinto Lord Mortimer della colpevolezza di un sospetto. Ho trovato tutta la corrispondenza fra mia madre ed è. Va bene. Ho scoperto il messaggio di mia madre. Oppure non ho capito il messaggio di mia madre. E grazie al cavo. Jimmy, grazie mille per il resub. Sei mesi. Eh, percorsi alternativi. Vediamo quanti. Mamma mia. Possiamo dare... Abbiamo 4 punti a disposizione. Di possiamo fare diplomazia. Oppure cosa possiamo fare salire. Logica. La logica. Jimmy. Jimmy. It's the horror night. Ok. Rottura di coglioni. Jimmy, abbiamo messo un po' di logica, ragazzi. Abbiamo bisogno. Poi abbiamo occultismo. Affidati... Affidati alle tue conoscenze, infatti, di miti, arti, occulte, simboli, religiosi, lingue antiche e società segrete. Va bene. E poi abbiamo solo un punto. Abbiamo qualcosa che possiamo completare con un punto? No. Possiamo andare scienze. Dimostrare essere aggiornato su... Oppure erudizione. Sfrutta le tue conoscenze artistiche, geografiche e storiche. Questo potremmo... Oppure politica. Andiamo sull'erudizione. Ok, confermiamo. Ok, cerchiamo di leggere un po' di cose che ci diano un insieme di conoscenze. Andiamo. Dove dobbiamo andare da qua? Dove, caspita, è il small salon? Da sotto. La sala quella più piccola. comments are you... Ah bah. Oh. 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 Dai Si sta pulendo qua Possiamo scendere? No Dove caspita è Tra l'altra Quello là che sta pulendo benissimo Quelle scale All'inizio gioco Ok Emily What's the matter, Louis? About last night, I'm guessing I sadly, no Even if I'd like to have, I Alas There are more pressing matters I have news about your sister What have you found out? Look, I've started piecing together the events Leading up to my mother's disappearance And your sisters Did my mother know about your secret? Yes, even though I belong to the English chapter Her rank in the order gives her access to a good deal of personal information Must have been Emma I saw in my vision I was given to understand that my mother and your sister bonded during their stay Um If mother's really killed her sister, I'd better find her by myself They say they spent a lot of time together They got along well Oh, really? Do you think your mother liked Duchess Hillsborough? Of course she did After all, she's your sister Well, we'll find them, Emily Trust me Should I speak to her about my vision? If what I saw is true She might want to take revenge Ok, noi glielo diciamo Emily There's something else Go on then It's It's about your sister I don't know what happened exactly But it's possible that my mother had a go at her I know, Louis I found out that same evening Well, thanks for not trying to hide it What? Why didn't you tell me? I didn't know if I could trust you Now I know I can It seems that your mother tricked Emma She apparently asked her to hide an important book So that even she wouldn't know where it was And then she shot her like a dog To make sure no one would ever find it again Ok How did you find out? Sir Gregory told me on my arrival I'm sincerely sorry, Emily Thank you, Louis You're very kind It means a lot to me But you do realize your mother will have to accept the consequences of her acts There must be an explanation, Emily That's what we shall see We'll speak about it later, somewhere Safe Come, Louis They're waiting for us Ok Abbiamo confessato, abbiamo visto nella visione nostra madre che ammazzava sua sorella I'm sure you were involved somewhere around the line That's right Pretend you don't know One piece of advice Don't travel through France on your way back Oh, it'll cost you dearly Calm now, my friends Let's calm down Everyone seems to be a little unnecessarily heated Don't forget where you are, please What's going on here exactly? Sir Gregory called us together to introduce the last guest But hardly had we arrived when he sat upon Monsieur Peru And what has Monsieur Peru done to once again provoke someone's anger? We don't really know just yet I get the feeling it won't be long before it gets out How could you dare do such a thing? Que brutto Dios mio, you are all out of your minds Well, duke manuel What made you kick up such a farce? What? Have you not heard? Well, let me inform you That yesterday morning at 10.22 am precisely In the middle of the Place de la Révolution in Paris By decree of the National Convention Which Monsieur Peru works for King Louis was guillotine What? The King of France is dead, gentlemen Our monarchies are in danger I have said it before How dare they? Oh dear Oh, as if Grace Gli ero spiegata a Cisi Cosa parla il gioco Friends, friends Basta che traduciate con Google Il trama gioco Ridiculous Bastard He was sentenced to death by 361 votes To 360 You beheaded a king for one vote Is that your democracy? What an obnoxious act Until this, anything was possible This political coup will have grave consequences France is lost Gentlemen, please Let us take a step back a moment In the name of holiness He was the highest representative of God in France, Emily Gentlemen, Duchess We're all among people of reputable company here We should be able to manage the conflicts of our nations in a respectful and orderly manner I fully agree with you, sir But That's enough, sir With whom do I have the pleasure of speaking? Louis Mourasse de Richer Are you related to Sarah de Richer? Faye? Sarah is his mother, dude I'm your mama Gentlemen, this news affects us all But I must ask you to remain calm It's not the first time history has taken us by surprise Let's ensure that our respective countries are allowed to respond appropriately to this news Oh, rest assured The response will not fall short, my friend Good for you Well, Your Grace Here I was preparing to introduce you as is proper And you've beaten me to it I'm delighted that we are all together at last Our meeting will therefore be able to kick off shortly I have just a few more little preparations to take care of Before you all find out the reason for your presence here In the meantime, I shall leave you to get to know one another When you hear the bell Please proceed to the conclave room on my left Behind that door I'll see you later Okay Let me stand Allora, vulnerabilità diversivi I doubt it's from sympathy alone Let's see what he wants from me Any news of her? Have you found her? Maybe? To hear you speak You seem to know my mother well Not really We met for the first time On this very spot Some weeks back We had a very pleasant discussion She's an exceptionally learned lady With a good head for business No need for me to tell you that I agree Did she tell you about Our arrangement? Absolutely Absolutely, but I was hoping that you could tell me more about it Well, she was planning to sell me a very old book I will make no secret of the fact that I am passionate about the subject And when Sarah spoke to me about it Her account literally had me enthralled I can think of nothing else since You might have come across some old books In her belongings, perhaps? As my mother's got so many old books I'm afraid I won't be able to Oh, it's easy You can't mistake this one It's an ancient grimoire Composed of seven parts Each one is closed under lock and key It was made in such a way That if someone tried to tamper with it The sheets would be permanently tarnished If you find it You mustn't tamper with it You see? That's unusual Unfortunately, that doesn't ring a bell I'll look again, but I wouldn't get my hopes up You seem very upset Is it so important to you, this book? It's the search of a lifetime What can I say? Every time I move closer to it It seems to slip away at the last minute I was very surprised To learn that your mother had it in her possession I thought it was with a certain von Borchert in Paris Do you know him? I've never heard of him I'm sorry, I haven't been much help to you Well, too bad I hope I've been able to satisfy your curiosity, Mr. von Volner And that you succeed in finding what you're looking for Oh, and so do I And now, what if you told me who you really are working for Instead of keeping up this pretense I beg your pardon? We both know what you're looking for, von Volner You're the one who von Borchert was planning to sell it to For centuries, all those who have come into contact with the Al-Azif Have bitterly regretted it, Monsieur de Richer You are playing a dangerous game Please know that I am working for someone who does not appreciate anyone Poking around in his business Let me guess It's Sir Gregory Correct You ought to know then He is not a man who likes to be duped You are walking on thin ice, Sir Ok, scopri Trova altri indizi sul biglietto di tua madre Parliamo con Napoleone Monsieur Bonaparte, can I speak with you a moment? Possessi Does expression, go beyond the nightmare, mean anything to you at all? Well, metaphorically, yes It sums up the career of a soldier quite well I doubt that is what you want to hear, though Indeed That's surely not what I'm looking for Well, Monsieur If you are looking for a phrase book Lord Mortimer must surely have one Given the number of books he has You ought to check in the library of the Tower You never know Would you have any more information about the conference Lord Mortimer spoke of? Nothing at all Mortimer is very committed to secrecy when it comes to his conferences But given the presence of Monsieur Perru and ourselves I think it must concern France to some extent Otherwise, I doubt he would have invited three Frenchmen to his table, eh? Non parlano un po' troppo vicini per essere a una distanza Che ti va a sentire a proprio agio Cioè, sembra che Napoleone ti stia guardando nell'anima What do you think of Duke Godoy? Well, I'd rather not express any opinion of him Why is that? His reputation is enough for me Napoleone, aspetta un istante Diario Eh, buona parte Etichetta la vulnerabilità Aspettate un istante Etichetta la vulnerabilità, però Immunità politica Meaning? This gentleman enjoys people talking about him for too many reasons He's undeserved titles More than ten in just four years And each one more prestigious than the one before You don't think he deserves them? If I had seen him on the battlefield There might be some doubt But that is not the case The Queen would rather not risk losing him So she consoles him with awards and titles So you don't have a very positive opinion? He's coveting French Catalonia Does not encourage me to have one I understand your point of view Well, I'll be leaving you now Okay Wait, monsieur Any news of your mother? Unfortunately not, no I hope to speak with her About my deal before I leave Let me know if you find her A plus tard, monsieur A plus tard Vediamo se c'è qualcosa che possiamo raccogliere qua in mezzo Ok, abbiamo trovato una dracuma Importantissima, ragazzi Non te lo rubi questo libro? No, è troppo alto Minchia Veramente fighissima sta porta, ragazzi Ripristinando i punti impegno Parliamo con Bonaparte Mr. President What do you think about your counterpart, Duke Manuel? I'm very surprised he was able to accept Lord Mortimer's invitation Given the political situation in Spain What do you mean? The situation is ready to explode with France over Catalonia Well, the Duke must have a darn good reason to be absent and come here, mustn't he? When Lord Mortimer invites you, Louis, you come It's always in your best interest I wouldn't say that personally, but... Go beyond the nightmare Does this line remind you of anything in particular? You've caught me unaware here, Louis Let me think about it a second No, nothing comes to mind Sorry, Louis, but I am unable to help you Ok Well, thank you for your time Don't mention it to my young friend Ok Come andiamoci If you're starting a question on the nightmare Don't hesitate to question the others about it Maybe one of them knows more than I do That's a good idea Thank you once again I'll see you in a little bit Plego, plego The conversion of Ulysses by Gours Circe changing Ulysses' companion Circe preparing wine What better trap for Ulysses? C'è niente a raccogliere qua sotto, no? Niente qua E niente qua Va bene Parliamo qua Al nostro cardinale Ah, Louis Just a man Good lord How did the king come to be executed I would think that the order would have intervened Minchia, una mazza del re di Francia Questo di qua è Come cazzo si chiama Cardinale Piaggi Da scoprire Da scoprire Adesso non si riesce a scoprire assolutamente la vulnerabilità No No Scusami Dobbiamo togliere la cosa Chiaro Scusami It's absurd I invite you to speak about it with my mother as soon as she reappears Is there any news of her I... Well, I hope it won't be long before I find her, your Eminence Louis I'm counting on you If you don't find Sarah before my departure I must ask you to give me back the letter I gave you Beh, non ti preoccuparti, vostra eminenza. No, volevi parlare con me. Se ti dico il nightmare, ti rende pensare di nulla? Hmm, la tua domanda è strana, mio figlio. Difficulto da dire. Potresti, almeno, raccontarmi un po' più sul contesto? Non ti preoccuparti. Prendete un posto e mi dico la prima cosa che si chiama nelle mie luci quando mi dicendo il nightmare. Hmm, eh, perciò, diciamo, che il Lord Mortimer'a favorito, sul occhio dal'ottima. Voi sapete, quella luci ha causato un po' più spiega quando era l'allocato. Il dipinto è intitulato Il soggetto e mostra un'amica che si chiama con una creatura che si senta sulle e nel background un uomo Non so se sarà di alcuna giusta ma non posso pensare di niente Non lo so Grazie per questo per la sua eminenza Ho dovuto andare a vedere in caso Sono sicuro che un uomo come te è in the circle of trust Would you know what the conference that Lord Mortimer mentioned is going to be about? Not really, my son Well, be it Lord Mortimer or Sir Gregory We are never informed about the theme of the conference before it begins Thank you for everything, Your Eminence I shan't take up any more of your time You are welcome, my son I will be seeing you, Louis You are welcome, my son Ok, abbiamo trovato gli indizi e ora vai nello studio di Mortimer lo studio di Mortimer che è al piano di sopra Guardate che vista No, non si può cadere per fortuna Mamma mia ragazzi Finchia veramente In Inghilterra e quando uno va al supermercato e c'è una goccia d'acqua mettono 5 cartelli tipo attenzione pericolo di morte immaginatevi qua senza la ringhiera No abbiamo la skill per aprire e via niente No, qua siamo alla libreria Dobbiamo andare al piano di sopra Quindi dobbiamo tornare indietro Dobbiamo salire sopra C'è essere a qualche parte Una cosa che ci può Oh, partiamo con lei Ciao, gioia, amore No, che lasciala Noi per sempre insieme staremo Cosa pensi di nostro ultimo chiesto? Beh, non ho mai pensato che avrei avuto la possibilità di trovare questo chiesto di chiesto di chiesto di chiesto di chiesto di chiesto Ragazzi, tu ci sei rimarrato Sua reputazione è ben conosciuta Il ragazzo colla amici Includo, credi, la Queen di Spagna La Queen di Spagna La Queen di Spagna piace indiscretamente dire La King, Godoy e myself make up the Holy Trinity The people have appropriately renamed them the Goat, the Ruffian and the Whore I didn't see you being a mudslinger in your idle hours I must say Emily What can you tell me about the coming conference? Sir Gregory and Lord Mortimer organizzate questo tipo di chiesto di chiesto di chiesto ogni tanto in order to consider the world situation But to what purpose? Well by bringing together the most influential people from the dominant nations of the dominant of the world they allow the mighty to discuss matters with calm there are precedence of armistices being signed at the end of these talks you know Talking while holding a glass of brandy makes things easier You'll see You're leaving me? Unfortunately I have things to do Non ti voglio lasciare Gioia mia Mamma mia Interessante questa donna Interessantissima Andiamo Ma che cosa c'è quando deve essere bella quella crostata Guardate là Voglio essere quella crostata Ragazzi vi ricordo che questa sera è eccezionalmente la notte horror aperta a tutti anche a non sub Quindi Non c'è bisogno di richiedere la vip Andiamo a vedere il Trova l'incubo Eh ho trovato già l'incubo Intanto vediamo qua Vediamo andare subito all'incubo Vediamo però prima se c'è qualcosa Che cosa ci possiamo rubare qua No niente Guardate che sfarzo Bello uccello Come va? Prendiamoci questa Oh Hmm Mi hanno rubato subito Minchia non abbiamo più punti abilità Vediamo qua Di saccheggiare la Quante cose da atteggiare Ah cioccolato Non possiamo investigare Abbiamo la Schifo Ci facciamo Egregio signor Guido Poletti Vi scrivo in merito Alle date Dei dipinti che vi ho inviato Per la vostra mostra temporanea Vi prego di notare Che fanno parte Dalla mia collezione privata E che sono datati In base al calendario Massonico AL In uso all'epoca Come avrete sicuramente Già dedotto Dovete ricordarvi Di sottrarre 4.000 anni Onde evitare Di sconcertare Il pubblico Va bene In usi a rammentarvi Che l'anno massonico AL inizia A marzo Non a gennaio Ragazzi queste sono Importanti informazioni Non a gennaio Marzo non a gennaio Vediamo Facciamo una foto Questa qua c'era qualche enigma Qualche cosa Con l'anno massonico Qui ce l'abbiamo A marzo non a gennaio Quanto al quadro Di longino Mi sono preso La libertà Di ritoccare la lancia In modo che Corrisponda meglio A quella originale Ma che minchia siete A cambiare i quadri Questo pazzo Vi esorto ovviamente A fare altrettanto Con la vostra copia O segui Lord William Alexander Mortimer Marchese Di Westforshire Va bene Allora Contabilità dell'anno 1792 Quindi questo 8150 sterline Cibo 6200 sterline Candele 6200 sterline Candele all'epoca 2621 sterline Pietra Da taglio 8600 sterline Marmo di Corinto Cioè le candele Quasi del Più del marmo 9227 sterline Legno 2680 Sterline Vetrate 280.000 Sterline Tele Di Maestri 3641 Sterline Tessuti 25.460 Sterline Vino 254 Sterline Acqua 13.598 Sterline Polvere Polvere è quella che si accumula Ma è totale 360.000 430 Sterline NPS Ricordare di ridurre il consumo di legno l'anno prossimo Va bene Contabilità dell'anno 1972 Cioè questo è ricchissimo Questo è l'incubo Vediamo l'incubo Un cavallo ma c'è un mostro sopra E vai dietro E vai dietro E vai dietro Prova l'incubo trovato Trova il meccanismo per spostare il quadro Libretto Ora si sposta il libretto più piccolo del mondo e si Niente Questo è un libro a caso Ma è questo Oh che c'è l'assotto C'è l'incubo Ok Trova il codice della porta segreta Vediamo se c'è qualcosa qua poi ritorniamo alla lettera perchè mi sa che è Il primo luogo di Pall Rubens Questo sottotitolo non è finito E sembra che Mortimer lo probabilmente fa C'è due date su questo sottotitolo 1154 AD e 5154 AL 4154 allora 1154 5154 1154 vediamo 1154 1254 Ehi, c'è due date su questo painting 1154 AD e 5154 AL Bisogna togliere quattro... Sì, DJ Gli anni, no? Dopo Cristo è quello del... Vediamo L'altro Un painting depicato la III Crusade It's titled Winter Before the Fall of Saint-Jean-d'Acre The Siege of Saint-Jean-d'Acre Was a major conflict during the III Crusade Richard the Lionheart and Philip Augustus Fought to take the town back It was the Crusaders' first operation To take back the Kingdom of Jerusalem Mmm Eh? Un istante 5,000 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 Non c'è da un cazzo Dobbiamo ricordarci Ci sarà qualche cosa Ci dirà pure il gennaio Eh sì Eh Aspetta 90 Facciamo con uno E poi con Con nove Ah Per il mese Che comincia Nel cosa sbagliato Siamo dietro l'incubo ragazzi Ah Sei chiusa Per sempre Minchia Un istante È chiudo la finestra Abbiamo allora Perquisisci lo studio segreto di Mortimer Carissimo Lord Mortimer Mi spiace informarvi Che sarà presto impossibile Ignorare la pressione esercitata Dai russi La zarina Caterina Ha tutte le intenzioni Di sostenere il conte Di Provenza E intende riconoscerlo Come reggente Del regno di Francia Dopo che Il re Luigi Sarà scomparso Dalla scena politica Mi spiace essere L'atore di cattive notizie Ma tempi bui Ci attendono Il vostro amico Elfride Beur Un'area E' una mappa Della orienta Inoltre Monsieur, i vostri piani di intervento in Belgio stanno proseguendo come previsto senza intoppi Il mio compito è quello di tenere a bada l'esercito prussiano Il vostro invio di cannoni a Valmi ci ha garantito la vittoria Come d'accordo ho informato il re di Prussia dei piani di invasione di Custin e con l'armata del nord Terrò gli austriaci alla larga dal Belgio Ritornerò a breve a Parigi perché temo che il destino del nostro re Luigi stia per decidersi a suo sfavore E ritengo sia per me impossibile non intervenire Qualora desideriate soscrivermi vi prego di contattare come al solito il nostro comune amico Monsieur Peru Quindi Peru fa ossequi Charles François du Maurie generale dell'armata del nord Quindi Peru fa da intermediario con Charles François Proviamo qualcosa Raccoglio oggetto subito Oh inventario pieno Qual è l'inventario? Visualizzare immunità e vulnerabilità Vale, è chiusa Carissimo Lord Mortimer Voi siete un amico della Cina E vi garantisco che sarete ricompensato per le informazioni fornite Non dovete preoccuparvi in merito a eventuali complotti contro di noi da parte del leg della Gran Bretagna Il suo rappresentante signor McCartney Se ne andrà senza alcuna speranza di stringere accordi con noi Il vostro amico, qui a Long, imperatore della dinastia Queen Mio Dio, minchia questo dico veramente agganciato fortissimo era Cioè, l'imperatore è carissimo lo chiama Allora William, indipendentemente dai tuoi progetti Sembra che il nostro padre non sia favorevole a lasciarti in mano i destini dell'Europa La Russia si unirà presto alla coalizione contro la tua cara Francia Non credere di poter resistere a lungo William, ti supplico di non perseverare Stai straziando la tua famiglia Con affetto tortello GPS Parteciperò alla conferenza Ma credi che organizzarla in questo momento sia utile? Va bene Quindi la famiglia di Mortimer non vuole che lui se ne vada A protegga la Francia Con la mappa dell'Europa 26 milioni Mio caro amico Vi ringrazio per le vostre parole E capisco la situazione in cui vi trovate Mi spiacerebbe dovermi confrontare con voi sul campo di battaglia Ma se le circostanze dovessero obbligarmi a muovere guerra Vi prego di comportarvi come meglio ritenete Dietro vostro consiglio e con il cuore logoro Mi appresto a incontrare la coalizione che si oppone a voi Resto nella speranza di servirvi ancora Giorgio, re di Hannover Re del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda Questo è il re Giorgio Che c'è qua? Vediamo se avete il coraggio di affrontarmi faccia a faccia Minchia Mi ha forse nel posto che Minchia Ha sminchiato con il mappamondo gigantesco Allora Trova tua madre Come cavolo devo trovato? C'ho 2000 lettere intanto qua Mio caro amico Ringraziandovi per i servizi resi All'aiuto concesso Durante la lotta contro gli spagnoli Ai fini della conquista di Oran Vi informo che è stata Approntata una nave diretta a Marsiglia In Francia Nascosti a bordo troverete alcuni cadaveri Infettati con la peste Che sta attualmente decimando la popolazione Nel nostro paese Maneggiate con estrema cautela queste casse Perché Aprendole Inavvertitamente Rischierete di diffondere la mattia in tutta Francia Minchia Sta facendo questo terrorista E' praticamente Lord Mortimer Cioè Gli ha nato cadavere Questa guerra batteriologica sta facendo Vuole fare Da qualche parte Possibilmente in Russia Ah Pagli America Ha la cassa Ecco i cadaveri Appestati Il regalo è stato consegnato Timur Shash Durrai Re di Afghanistan Pujab Sind Ma Shad E Kashrim Non dovrebbe Mantenere il suo titolo ancora a lungo Suo figlio Zaman Gli succederà come previsto Quindi saremo in grado di riprendere Le negoziazioni Interessante ragazzi Mio caro Lord Spero che questa mia Vi raggiunga presto Ho le ore contate La mia casa Editrice E' stata confiscata E sono stato imprigionato Nella fortezza Di Schlesburg Schlesburg Se potete intervenire A mio favore Vi sarei Eternamente grato E debitore La zarina Caterina Sì Con la zarina Caterina Non tenderà Non Tarderà molto A mettere al bando Tutte L'elogio E' l'ordine dorato Sul suo territorio Il nostro orizzonte E' sempre più Un quadro A tinte fosche Nella speranza Che possiate aiutarmi Il vostro amico Nikolai Novikov Sì Qua c'è La zarina Caterina Stando dei problemi Abbastanza importanti Vediamo qua C'è scritto Egregio Lord Mortimer Vi scrivo per aiutarmi A convincere Il presidente Washington A non firmare La legge Sugli schiavi Fuggiaschi Per come è formulata E' necessario Leggiferare A livello nazionale E non consentire A ciascuno stato Di scegliere La propria politica In merito Alla schiavitù Inizialmente L'obiettivo Era risolvere Un conflitto Tapa In Silvania E Virginia Ma firmando La legge Rischiamo Di legalizzare La caccia Ai neri Il numero Sempre maggiore Il numero Sempre maggiore Uomini Di vedute Ristrette Si stanno Convertendo In cacciatori Di schiavi Incapaci Di sorprendere Schiavi In fuga E rapiscono Il primo nero Che capita Loro fra le mani E lo trasformano In un fuggiasco La situazione Minaccia Di degenerare Rapidamente Vi ringrazio In anticipo Il vostro amico John Adams Vi prego Di salutare Mia figlia Elisabeth Da parte mia Padre Elisabeth Ah Ok però Dobbiamo trovare Nostra madre C'è qualcosa Strangere Nostra madre C'è qualcosa Strangere L'immunità Di Mortimer Strangere I don't recognize The alphabet I wonder where The pictograms Are from It isn't Egyptian Or Hebrew There are two Inscriptions On the sides As well as On the top No way to know What's underneath Absolutely no idea What it's for But I find This cue Fascinating Feathers Pigeon Probably A skeleton By the name Of Gustav If the plaque On the plinth Is anything To go by Mortimer Has given a name To his anatomy Skeleton That's morbid Egregio Lord Mortimer Come d'accordi Ho provveduto Alla sostituzione Della vostra vecchia serratura Con una di mia invenzione Buono Traendo ispirazione Dal vostro amico Il dottor Guillotine Quello che Non è quello Che ha fatto la guillottina Perché Guillotine Era un dottore Che voleva Cercava di Aiutare le persone Uccise Dal Soffrire E aveva preso Un'invenzione Di un tedesco Questo tedesco Praticamente Ha cercato Per tutta la vita Di aver Riconosciuto L'invenzione La guillottina E il dottor Guillotine Ha sofferto In maniera Abbastanza importante Del fatto Che Uno strumento Di morte Venisse Nominato Con il suo nome Praticamente Chiamato con il suo nome E ha cercato Invece tutta la vita Di non fare Chiamare la guillottina Guillottina Ecco qui Il modello Della vostra Prossima serratura Se ne apprezzate Il prototipo Difficile immaginarla Nel complesso Ma verrà situata Al centro Della porta Attuale Lo scopo è quello Di non alterare In alcun modo La funzionalità Della porta Bensì Aggiungervi Un tocco personale A seconda Dell'allineamento Delle ruote Un suddetto Una suddetta serratura Si aprirà O punirà Il ficcanaso Mamma mia Di taglia la mano Il ficcanaso La cui fede Non è abbastanza forte Ho chiamato La mia Invenzione Il giudizio Della fede Perché Se un curioso Non resiste Alla tentazione Di aprirla Sarà castigato Può essere Che nostra madre Abbia perso il braccio Per questo Spero che apprezzerete L'ironia Della cosa Gustave Montra Maestro Architetto Ok Ragazzi Dormortimel La tigre È Moribonda Su vostra richiesta Ho lanciato un attacco Nei confronti Di Travancore E ho Personalmente Tagliato la gola A quanti più inglesi Possibili Ma senza aiuto Da parte dei francesi Non sarò in grado Di resistere Ancora a lungo Le mie forze Stanno rapidamente Diminuendo Nonostante I vostri Nuovi Razzi Vi chiedo Di aiutarci Tipo Sahib Sultano Di Mysore I tarocchi Ragazzi Mio carissimo Amico I nostri piani Procedono a meraviglia Si è tenuta la votazione Relativa alla legge Sulla Coniazione E il vostro progetto In merito Alla fondazione Della prossima Banca d'America Che verrà Con ogni probabilità Chiamata Union Bank Non subirà Ritardi Per quanto Concerne La costituzione Della Casa Bianca La data prevista Per l'inizio Dei lavori È sempre Ottobre Non accetterò Alcun ritardo Potete contarci A presto Thomas Jefferson Segretario di Stato E poi diato Presidente Quindi si è costruita Sempre per lui La Casa Bianca La tabla Di elementi alchemicali Quindi Il Lord Mortimer Studia anche alchimia? Sembra che Si è interessato In tutto Niente Possiamo farci Assolutamente niente Rubiamo Quanto più possibile Egregio Lord Mortimer Vi garantisco La mia più totale Devozione Come d'accordo I contadini Della Vandea Presto si solleveranno La mia rete È impegnata A incrementare La pressione Sulle masse La decisione Dell'Assemblea Di approvare La costituzione civile Del clero Sta infiammando La regione Il popolo Rifiuta totalmente I prelati E giura fedeltà Allo Stato Se potete assicurarvi Che la convenzione Impartisca Il colpo finale Al popolo La questione Sarà risolta Non è assolutamente Mia intenzione Suggerirvi la strada Da seguire Ma Un reclutamento Forzato Per un conflitto In terre lontane Sarebbe l'ideale Per spingere il popolo A ribellarsi Definitivamente Il vostro Devoto Servitore François A Tannais Quindi è lui Dietro Praticamente Alla cosa Di Napoleone Segretamente Lord Mortimer Praticamente Ha orchestrato Una serie di cose Perché il popolo Si rivoltasse Contro il re di Francia La chiave E la scatoletta Di questa scatola Bravo Niente Ho trovato solo una Mi sa Scienze Un'altra immunità Di Lord Mortimer Quante immunità Ok qua Ho Praticamente Fatto tutto Qua c'è una testa Un cervello E qua sopra Invece Che cos'è Una maschera di ferro Metodico Il tratto sbloccato Ho controllato Penso tutto Ora ho controllato tutto Ok Penso che possiamo Andarcene Prova tua madre Questa di qua Abbiamo letta Mio caro amico Come richiesto Ho avuto modo Di riunire I miei colleghi Infine sottoscrivere L'accordo che avete proposto Sarà conosciuto come Accordo di Buttonwood Se ricorda Ricordate il luogo In cui eravamo Riuniti Di quando ci incontriamo La prima volta Capirete il perché Di questo nome Di seguito L'elenco Dei miei colleghi Va bene Grazie al vostro aiuto Potremo presto Riunirci Nella mia dimora La Tontine Coffee House Spero Arrivedervi presto Questa abbiamo già guardata Non è che c'è qualcuno Ora Abbassi Pensa alla serratura Minchia mio Dio No 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 Dio buono Sì sì L'accordo di Buttonwood Minchia ora Dove cazzo Come cazzo Si trova Qua la cosa Locked Minchia Non ci sono date Non ci sono date Ma è già calza C'era una che aveva Il Aveva le cose Del Il numero di persone Del suo paese Mi sembra 26 milioni Abbiamo 26 Ricordiamoci 26 Non ci sono date Non ci sono niente Iscritto qua Il Fire E La stella Quella di là Dove cazzo è Fire È questa qua Ragazzi Vedete Vediamo qua C'è qualcosa C'è uno Numeri Vediamo il fuoco Se si riesce a trovare Non lo trovo Il fuoco Nella Minchia Siamo nella Merda Qua Non ci sono Assolutamente Numeri Neanche in questa Lettera Neanche in questa Neanche in questa Esamina Esamina Materiale C'è una cosa Scritta Là Sono Quattro Magari sono Numeri Non sono Nel Alphabeto L'escrizione Abbiamo L'abbiamo Esaminata Questo vedete Sembrano Quattro Numeri Magari Sono Sembra La stessa Cosa Scritta Da tutti I lati Qua Può essere Quattro Due Uno Due Con I taglietti Che ci sono In quella Cosa Il cervello L'abbiamo Visto Tarocchi Tarocchi L'accordo di puttamood Subito È venuto Qua Subito Angelo È arrivato C'è niente Niente che ci siano Persi Questo è con i numeri Dio C'è un libro C'è un libro Qua non c'è niente Dottore ci sei Ragazzi Idee Presente Cerca la soluzione A questa enigma C'è Qualcola tipo Door Code Mortimer Behind The Nightmare Dove essere due codici Uno per entrare Uno per uscire Perché qua Mi sa che Non ce ne usciamo più Se no Mi sta scattando Che in alto Non c'è niente Bella Guy Come va Bene arrivato Perché vedete Cioè questa è l'unica cosa che 3 2 1 2 3 2 2 Può essere 3 2 1 2 3 2 1 2 2 Grazie. 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 ragazzi sono confuso cercare su google un istante grazie a tutti no 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 9499 sono al contrario mi sa quella era la prima 1191 era la cosa dottora che mi dai gli indizi sbagliati vuoi 499 mi sa in cucina si si ma male che ci sono io dottore no male che non mi fido di te scopri la provenienza della spada lasciata a tua madre che posso rubare qua allora ho conosciuto Manuel Godi ho ottenuto le informazioni da Von Waller avrei potuto mostrare interesse per il merlo indiano di Mortimer minchia vaffanculo avrei potuto mostrare del merlo indiano avrei potuto incontrare Peru in strana circostanza abbiamo 4 punti andiamo in politica abbiamo un punto da dare a qualche parte lo diamo a erudizione così la completiamo erudizione benissimo ok ok siamo sempre più eruditi ragazzi questa notte è una notte è una notte con il Lord Mortimer non c'è nessun dubbio ok bisogna trovare dove è venuto la spada che è venuta in modo di trovare la mamma ok da dove veniva la stata ok da dove veniva la stata ok da dove veniva la stata spia piaggi cerca tua madre voglio spiare piaggi Spia, piaggi e uomo E' proprio al disgamo ma è solato E' proprio il tuo non capire Non capire Non capire Ma ancora non capire C'è qualcuno che sta ascoltando Cosa? M. Delichet Cosa non ci chiede Ache non ci chiede Non vuoi interruttare Non mi chiedevi Ma cosa possiamo fare per te? chiediamo ai serbi parla della spada di pietra scopri più sulla loro discussione non mi chiede a te, ma hai capito non mi chiede a te, non mi chiede a te non mi chiede a te, non mi chiede a te non mi chiede a te, non mi chiede a te la sua eminenza, hai parlato di l'Holy Spirit, se ricorda l'Holy Spirit, l'Holy Spirit l'Holy Spirit, è vero? inoltre, Luin, l'Holy Spirit l'Holy Spirit, l'Holy Spirit l'Holy Spirit, l'Holy Spirit vediamo se mi notano che bello questo vaso non lo sto totalmente ascoltando non fate caso a me praticamente l'audio passa dal mio orecchio destro ed esce dal mio orecchio sinistro per arrivare al Lord dall'orecchio sinistro a destra per arrivare al Monsignore va bene, va bene, me ne vado vediamo di trovare un servitore lasciamo lo spadone col servitore servitore servi anche a me servitore non c'è nessun servitore in questo piano ma veramente è una vergogna non gli fanno più gli umili servitori di una volta un amico alla vedenza grazie Angelo per il resub grazie di cuore non servono a niente questi servitori sei mesi una volta che è cambiata l'angelo è sempre la stessa credo che sia cambiata ah, c'è il cervello riusciti a scendere ok, tra i trasporto siamo bravissimi a scendere un oggetto non raccolto abbiamo rubato un libro all'istante un servitore guarda qua, guarda qua abbiamo questo sei un servitore di minchia ti fai rubato un seguale non me ne frega niente ti voglio chiederlo a spadone è accessibile ai tuoi potresti magari aiutami? cosa posso fare per te, signor? dove è venuto questa scuola? dal giardino, signor quella scuola è appena una delle statue nel giardino grazie a te non lo ha detto ma perché cazzo ce l'hai tu la sala ragazzi giardino abbiamo uscito in giardino rubiamo subito altre cose oh, finalmente abbiamo un po' oh, c'è una moneta rubiamola c'è più niente che possiamo sottrarre niente riusciamo a uscire in giardino? uuh, minchia devo uscire in giardino? benissimo da quale statua? e dov'è? ci avrà avuto in mano qualcuno? ci sarà un coglione messo così con niente forse aveva impizzata? forse aveva impizzata? guarda c'è lo spago dai ok, guido la spaga ok, osserva la crepa dai arrivaci che c'è il filo esamina la crepa bravo bravo sei un genio nooo, giusto l'hai fatto andiamo, seguiamo il suo spago c'è ma che minchia il labirinto intanto qua chi c'è? ciao bene monsieur de ricer mhm che ti porta qui? vediamo cosa è vulnerabile questo qua come si chiama? Perù un amico alla vedenza psicologia grazie mille rape grazie mille quattro mesi bello grazie di cuore grazie per la subanza allora Perù ragazzi è immune all'interrogatorio ed era ed era ed era però vulnerabile sono un coglione alla psicologia alla psicologia non c'è nessuno monsieur de ricer o sarai pronto un uomo morto ti chiedo buona fortuna ti necessitarai non c'è nessuno così ci ha frenzonato subito va bene allora togliamoci questo effetto negativo all'istante dobbiamo cercare di arrivare di qua la mano la mano metti la mano non è che nel meccanismo è taglia la mano c'è capito c'è la cosa c'è il buchino capito c'è la cosa c'è il buchino praticamente se la mano viene bucato no non prevo un cazzo che c'è scritto qua esamina la lastra ok però un istante perchè qua stiamo continuando a seguire questo merda di filo non si passa da qua stiamo ritorno indietro ritorno alla statua ritorno alla statua cerca cerca mmm mmm qua abbiamo ok qua c'è questa statua andiamo a vederla Icarus Icaro ma com'è Icaro messo siiii ritorno alla targa ritorno alla targa ma com'è andiamo a continuare questa statua qua abbiamo vista Theseus oh pure Teseo ha la cosa bella spada non è che possiamo dobbiamo andare a prendere una spada da là dobbiamo andare qua c'è però non c'è niente vero dove cazzo si va per andare c'è niente vero 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 esamina la crepa c'è niente e nemmeno so长a che una tonguesa ok non possiamo andare a prendere sta cazzo di questa la possiamo rubare no E qua pure, no Ok, arriva qua, quindi dobbiamo metterlo a Teseo, mi sa, eh Allontanati Quindi Teseo è quello che deve prendersi la spada, secondo me Dio buono Dando cazzo si passa Questa è la spada Nota la crepa Il piseo Dai Teseo Dai ragazzi, speriamo di rombucarci la mano malissimo Premi Non ci siamo attimata Ahi, ci siamo attimadissimo Niente, ce la siamo presa in culo Ma perché miglia c'era il filo che ci portava la Cazzo era stata la cosa di quella merda Dammi la mia spada indietro, merda Dammi la spada Brutta merda Poi che abbiamo Pasiphae Pasiphae Daedalus Daedalus Osserva la crepa Ehi, c'è un crack in questa statua anche Sei caro ragazzi Premi Di nuovo No No Dove cazzo è lì Forse quella stata là cos'è Oh 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 A Styrion ragazzi Non si era visto assolutamente C'è la spada ovunque Ma piglala in culo Ma vaffanculo ora l'ho notato Andiamo Ma chi l'avevo messa? Me lo so dimenticato Dio no Ah lì c'è A tizio Ma vaffanculo va Dammi la mia spada indietro Daedalus Daedalus Estrae la spada Una spadanza Andiamo A Styrion dove cazzo sei A Styrion A Styrion Sembra una magia A Styrion Attenzione che qua c'è la cosa a rubarci No vaffanculo ti voglio leggere Mi sono rotto i coglioni A Styrion qua la mia Ho scelto te A Styrion Osserva la crepa La stagia ha un crack in it Ok Poi sentirà un click da qualche parte Va bene No niente click A Styrion Non mi tocca tocca La cosa tocca Ora non c'è tipo Mi fa il prank Premi Mi sento fortunato Pimpolo pampolo Palin bambu Pampolo pimpolo Palin bambu No Manco a Styrion A Styrion C'era tutte le spade A Styrion Maffanculo Arriva a mettere Mamma mia che odio Dammi la mia spada Che è già nei tanti A Styrion C'era pure la musica Andiamo Ah qua c'è un'altra cosa A rubare L'unica consolazione La vita mia E' il furto E' l'atrocinio In questo gioco I' il furto C'è un'altra cosa I' il furto E' la C'è un'altra cosa C'è un'altra cosa C'è un'altra cosa Allora, scusatemi A chi non l'ho messa Sa spada A lui l'ho messa A lui l'ho messa la spada, ragazzi A Teseo Non lo so, convicca la spada Teseo non mi ricordo che gli ho messa la spada Mica, quasi tutta è entrata a Teseo Attenzione, attenzione Che Teseo qua Sa qualcosa Guardate com'è conviccato male La conviccanza Premi Ciao, oramai Meglio di Gesù Cristo Dio boh Mamma mia Sta pure conviccato all'altro lato la spada Dottore, aiutami Mi stai la spada Mamma mia Questo l'ho fatto Quello l'ho fatto Poi c'è la statua di Cuturlo Guardatelo là Cuturlo Il cane Il cane Il cane Cuturlo Tu non c'è la spada Non la vuoi Niente No Non è che bisogna inserirla in ordine Tipo la spada Mi fa girare i coglioni Non soffia dove passare A questo gliel'abbiamo messa A quello gliel'abbiamo messa Lui la spada niente Perché già è moruto cadendo Questo gliel'abbiamo messa La spada A quella gliel'abbiamo messa A quello gliel'abbiamo messa Cioè è bello che minchia Il tabirinto finisce là I cani qua Le spade non ne voglio Minos Dov'è Minos Minos Ma gliel'abbiamo messa Non è lui Minos O Minos Gliel'abbiamo messa Minos Non era lui Minos Dio buono Gliel'abbiamo messa MINGA L'abbiamo impilzato tutto Daedalus No daedalus questo qua Dove cazzo è Minos Può essere lui Minos Lui mi sa di faccia la prova da Minos MAMMA MIA Minos Oh Minos L'Ominos Bianco Davvero Davvero Ricorda il mito Due no Io Osserva la crepa Convita La spada nella crepa È un click La spada Ha aspettato un istante Voglio capire E David Ah no Non ha fatto la realistica Usciva dall'altro lato Vediamo se mi deve bucare la mano di nuovo Ormai Veramente Remi Sangue sulle pareti Fa già presagire Sventura Scendiamo Minos Altra visione I Anima I I You You Can't be serious Manuel You know That's not going to happen You must leave me alone now I have agreed to everything Even to Agreed Non ero capace di avere una scuola. Cosa sta succedendo? Cosa ora? Cosa devo fare per ottenere la mia libertà? Obey me. Ora, fuori! Cosa è? È la terza volta in tre giorni. La sniffanza. Vediamo se sei in là, madre. Vediamo se sei lì, madre. Ragazzi, PP time. E poi vediamo cosa si nasconde dentro questi meandri. Vi lascio a guardare i meandri. Guardate lì che sono meandrosi. Bella! Le melis! Come va? Ma! Ma! Grazie a tutti. 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 Che cazzo? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.